Io sono qui sicuramente come rappresentante dell'Università di Perugia, di questo sono molto orgogliosa che mi avete invitato come rappresentante dell'Università di Perugia, ma anche come in rappresentanza della società geologica e vi porto i saluti del Presidente Carlo Doioni, che non è potuto intervenire a questo evento, e come coordinatore di una neonata sezione di geologia stratigrafica e sedimentologia, che diciamo, come credo, non lo so se si dice anche a Perugia, in Umbria, si dice è la morte sua questo volume, quindi è un contributo che abbiamo accolto con molto interesse e con molto piacere. Io ho solo qualche slide di sfondo a quello che dico, non è una presentazione, possiamo andare avanti anche scorrendo. Chi di voi ha avuto occasione di vederlo si è reso conto che si tratta di un volume che è ricco di dati, di immagini, di informazioni, che diventerà sicuramente un punto di riferimento non solo per i biostratigrafi e i micropaleontologi, ma per i geologi del sedimentario, soprattutto per coloro come me che si occupano di sedimentologia dei carbonati. Anche perché il tutto è inquadrato e contestualizzato all'interno, è visto dal punto di vista del paleoambiente, della paleogeografia, dell'architettura biostratigrafica, come già le prime pagine del volume ci anticipano. Quindi costituisce un quadro di insieme che sicuramente sarà interessante tenere a disposizione non solo dei docenti, dei rilevatori, del personale che fa ricerca, ma anche degli studenti. Devo dire che io ne ho ricevuto una copia in omaggio e già è andata in pasto agli studenti che stanno preparando la tesi perché hanno trovato appunto facile consultarlo. Quindi per me, secondo me, questo già è un ottimo risultato. Soprattutto per chi, dicevo, si occupa di geologia dei carbonati, di sedimentologia dei carbonati. Io sono cresciuta scientificamente nella culla dell'appennino ombromarchigiano e diciamo al di sopra delle facce di acqua bassa del calcare massiccio poi si snoda un bacino che è un insieme di colori che il rilevatore non dico che trova facile rilevare perché ci sono dei dettagli da fare e ancora da precisare. Ma sicuramente non è come rilevare l'appennino centrale dove l'analisi, io penso che poi i rilevatori che presenteranno la carta più tardi ce lo illustreranno, dove l'analisi della facces, della microfaces è di notevole importanza e quindi la sua età e il suo contesto paliambientale per discriminare le varie unità stratigrafiche. Possiamo anche andare avanti, io ho trovato molto interessante che ogni tavola è dedicata a un taxon che viene rappresentato con tagli, con immagini diverse a volte anche in forme sciolte ma è quello che ho trovato interessante proprio dal punto di vista del sedimentologo più che del biostratigrafo anche il contestualizzarlo all'interno delle microfaces più significative quelle che più comunemente contengono questi bioclasti questi elementi, questi fossili e questo perché appunto si è tenuto sempre ho visto che si è tenuto sempre conto del contesto ambientale palioambientale, di quello paliogeografico di mettere in luce i rapporti e le caratteristiche delle porzioni più interne della piattaforma delle facces di slope, delle relazioni con il bacino con gli elementi diciamo rimaneggiati dentro il bacino e provenienti dalla parte interna della piattaforma e quindi torno a ripetere che sarà fondamentale come contributo alla conoscenza della sedimentologia di carbonate alla descrizione della sedimentologia di carbonate e questo non solo per il mondo accademico per chi fa ricerca poi credo che la professoressa Cherchi sarà anche molto più dettagliata su questo aspetto sull'utilizzo delle microfaces nel campo della ricerca ma anche nel campo della ricerca petrolifera a differenza del clastico e non me ne voglia chi qui dentro magari si occupa di sedimenti classici una facces sedimentare o una microfaces sedimentaria ha un destino meno prevedibile di quello clastico e questo dipende molto anche dai componenti della facces dai componenti della microfaces quindi per esempio diciamo che possiamo andare avanti anche scorrere molto velocemente perché ho un'immagine ecco e durante la sua storia sedimentare e diagenetica può subire dei processi di dissoluzione di cementazione che dipendono anche da quali sono i fossili e da qual è l'età che essi rappresentano e il contesto diciamo stratigrafico in cui sono inseriti faccio un altro esempio un'arenaria silicoclastica mantiene le sue proprietà petrofisiche come per esempio roccia serbatoio sia che sia del trias che sia del cretacico mentre possiamo andare avanti una microfaces una microfaces con foraminiferi o gasteropodi del mesozoico inferiore ha una proprietà petrofisica diversa se continuiamo rispetto a quelle a una facces che contiene rudiste quindi è importante anche per chi studia le facces e le microfaces nell'ottica della ricerca petrolifera avere presente il quadro biostratigrafico il quadro la sequenza stratigrafica poi voglio diciamo concludere per non portare via tempo ai lavori ma per ultimo queste ultime parole le dedico agli autori Maurizio Chiocchini Maria Letizia Pampaloni e Rita Pichezzi che con la loro esperienza sicuramente garantiscono una completezza una qualità scientifica ma non c'è bisogno di dirlo perché li conosciamo tutti a questo volume comincio dalle più giovani e io lo dico con fierezza Umberto perché siamo coetanei quindi devo aver sorsa dire dalle più giovani e quindi loro hanno diciamo una esperienza pluridecennale al servizio del servizio geologico proprio al servizio della geologia e nessuno come loro sa appunto come come organizzare come produrre un contributo come presentare un contributo come questo perché la comunità scientifica ne possa usufruire e noi ci conosciamo da parecchio tempo e ci siamo conosciuti ai congressi ai workshop alle scuole di specializzazione quindi questo perché loro hanno sempre tenuto presente e vivo diciamo l'interesse a scambiare con il mondo anche dell'università e della della ricerca in generale e poi lascio per ultimo ma sicuramente non per importanza il professor Chiocchini che appunto non cioè non c'è bisogno ovviamente di aggiungere niente se non il nome il cognome io voglio solo cioè regalarvi un ricordo mio della prima volta che ho che sono stata ricevuta dal professor Chiocchini ero appena laureata e mi ha ricevuto veramente con una cordialità e con un'allegra cordialità che mi ha messo molto che ha messo me e altri colleghi poi nel tempo molto a nostro agio ma soprattutto ci ha insegnato almeno io ricordo questo a leggere delle cose che allora mi sembravano tutte uguali e quindi con una con una capacità di trasmettere di trasferire le sue conoscenze che è veramente rara io ormai non sono più di giovanissima e quindi ho avuto modo di collaborare di interagire con molte persone e la capacità di trasferire le conoscenze fatta con una fatta con non solo con molta competenza ma anche con una cordialità e con una signorilità che è sicuramente rara in tutti gli ambienti non solo in quelli universitari e io anzi voglio accogliere oggi questo è una diciamo utilizzo personalmente questo contesto per ringraziarlo personalmente ma non solo a nome mio anche a nome di altri colleghi della scuola di Perugia che deve molto al professor Chiocchini e quindi poi chiudo veramente chiudo con una domanda che è la stessa che ho fatto a Letizia quando mi è arrivato il libro questo volume ma quello sul mesozoico quando lo fate grazie per la vostra attenzione grazie grazie